Ciao amici e bentornati sul canale con un bel video extra dedicato ai miei accessori da viaggio preferiti quelli che porto solitamente con me durante le mie avventure che possono anche essere utili per le vostre prossime avventure non serve che prendiate appunti, vi linko tutto qua sotto in descrizione tranne le cose che non si possono linkare, tipo le buste di plastica un qualcosa che bisogna sempre avere con sé ci ho messo pure il computer in una busta di plastica perché oggi eravamo sul gommone e avevo paura che si bagnasse con l'acqua di mare buste dell'IKEA molto comode, questa è la mia banca del tè, io viaggio sempre con un casino di bustine di tè sono una cosa poco ingombrante e leggerissima che vale la pena di avere sempre dietro perché un tè caldo ci sta sempre se vi dimenticate di portare le buste di plastica potete improvvisare io oggi ho messo le mie scarpe dentro al sacchetto che conteneva la carta igienica che avevamo in bagno bisogna sapersi arrangiare oltre alle buste anche gli astucci per tenere tutta la roba organizzata questo qui è il mio astuccio contenente i medicinali ma non solo in realtà perché ho iniziato a metterci anche altre cose tipo i miei adesivi, mascherine che su alcuni voli sono ancora obbligatorie salviettine igienizzanti, qui c'ho il brioschi è quello tarocco del discount in realtà, metti il caso che non riesci a digerire quando viaggio raga io ho dietro veramente di tutto anche le posate da campeggio così nel caso andassi a prendere da mangiare al supermercato e mi servissero le posate ce le ho rigorosamente di plastica per non avere problemi ai controlli di sicurezza anche perché tutto ciò che porto con me va nei bagagli a mano perché è meglio viaggiare solo bagaglio a mano cucchiaio da tracking questo è il coso per chiudere i sacchetti metti che devi chiudere un sacchetto di patatine o una roba c'ho anche questo ho anche del sale vitamine, dramamina per il mal di mare queste sono cose che ti aiutano a dormire in aereo non le uso mai un termometro può essere sempre utile a te o a chi viaggia con te cerotti e anche la crema per tatuaggi metti il caso altro accessorio stracomodo un bel moschettone possono avere tantissime funzioni io per esempio le utilizzo per attaccarmi roba allo zaino tipo oggi avevo attaccato l'infradito oppure il mio piumino oppure il mio cappello di pelo pesano poco occupano poco spazio e quindi sono accessori validi ma nel mio zaino ho veramente di tutto e di più tra cui anche una custodia per telefoni in piumino l'ho presa alle svalbard per tenere il telefono al caldo quando vai in posti molto freddi così ti si scarica meno la batteria questo qui è il mio scatolino per rullini che utilizzo per contenere un sacco di cose piccolissime anche qua c'è dentro di tutto specialmente SD, micro SD, schede SIM c'ho anche questo piccolissimo adattatore micro SD iPhone per guardare sul telefono le clip fatte con la GoPro questo ragazzi bisogna averlo è il pirulino per togliere le schede SIM credo te lo diano quando compri il telefono comodo da avere dietro così se quando arrivi in Italia devi togliere la SIM locale per rimettere la tua SIM italiana almeno ce l'hai a portata di mano anche qua sono piccole cose che però una volta che hai con te sei a posto ogni volta che ti serve mascherina per dormire utilissima soprattutto se dormite con gli occhi un po' aperti e abbinata alla mascherina quella normale sulla bocca se dormi con la bocca spalancata e sbavi tu con questo setup sei tranquillo che in aereo nessuno ti farà una foto di nascosto per prenderti in giro a me è capitato questo laccio raga comodissimo è uno di quei lacci che si usano per tenere i badge al collo io ho iniziato ad utilizzarlo sempre per non perdere le chiavi delle macchine che noleggio in giro per il mondo con un laccio come questi sei sicuro di non smarrirle perché ce le hai al collo questo amici grande classico l'adattatore universale per quanto riguarda le prese di corrente ne avrei tantissime da dire di base io mi muovo in due direzioni o parto direttamente con la presa elettrica del paese in cui mi troverò questo è un caricatore fighissimo che ha la presa americana integrata ma ci puoi attaccare te li danno in dotazione anche le prese degli altri paesi al mondo ed è un alimentatore usb c che carica veloce anche il computer quindi piuttosto che avere mille caricatori spesso e volentieri mi porto solo questo però per essere sicuri ci sono anche i classici adattatori universali se ne dovete prendere uno spendeteci due lire in più e prendetene uno come questo vedete che c'ha le prese usb c e usb normale cioè con questo accessorio di base puoi caricare il telefono ovunque ti trovi si chi è? questo è un altro dei miei caricatori c'è aria consumante come c'è aria consumante? puzziamo il prossimo non è un accessorio per nulla economico però è stato l'acquisto migliore dell'ultimo periodo perché mi sono preso raga l'iPad mini l'iPad mini è una figata perché con la sua penna io posso disegnare, posso scrivere, posso lavorare posso farci un sacco di cose tra cui le scritte che vedete nei video ma soprattutto è una salvezza in aereo perché ci scarichi sopra il mondo di film e serie tv e te le guardi comodamente con le tue cuffione con cancellazione del rumore queste qua sono le so... cioè queste me le ha date Sony sono tipo le 1000XM5 oltre che essere molto belle la batteria dura un'infinità tipo che io mi sono fatto tutto il viaggio in Antartide senza mai caricarle io ho ricaricato le cuffie che però erano al 90% le cuffie così io non ho solo queste ho anche le Airpods Pro che sono quelle più piccoline, più comode però la figata di queste è che tu le puoi utilizzare anche con il cavo questo qua è il cavo AUX il cavo è fondamentale quando monti i video ma soprattutto se tu vuoi guardare con le tue cuffie un film in aereo senza utilizzare quelle cuffie scaccionissime che ti danno a bordo è più bello e anche più sostenibile non utilizzare delle cuffie tra virgolette usa e getta ma utilizzare le proprie però sapete che a bordo degli aerei spesso e volentieri c'è quella presa jack doppia la presa doppia l'avevano introdotta per far sì che le persone non si rubassero le cuffie che ti danno a bordo dell'aereo però se tu hai le tue cuffie con il tuo cavo e ti prendi un adattatore come questo adattatore piccolissimo leggerissimo che costa pure poco tu con questo puoi guardare i film con le tue cuffie con il tuo cavo a bordo degli aerei se hai tante cose scaricate sul tuo telefono o il tuo iPad non hai bisogno dell'intrattenimento di bordo però a volte l'intrattenimento di bordo regala qualche film che magari è uscito da poco al cinema e quindi ci sta essere preparati per ogni evenienza vanno per pulire gli occhiali sempre con me adattatore di prese elettriche accessorio utilissimo per i road trip il caricatore da auto anche questa è una stupidata che vale la pena di avere dietro non sai mai quando può rivelarsi utile e soprattutto io ho dietro anche un cavo aux con l'adattatore quello per l'iPhone perché se noleggi una macchina la prima cosa che fai è capire come mettere la musica in macchina non è vero qual è la prima cosa che fa Carlo? apri la portiera per entrare dopo essere entrato in macchina cerchi di capire come mettere la musica ammetti che non c'è il bluetooth o il bluetooth funziona male o ci vuole troppo tempo per configurarlo cavo aux problema risolto ma cos'è un albergo questo? questa è la borsina dove metto la mia attrezzatura quella piccolina cosa devo far vedere ancora? questo qui è il mio marsupio pieghevole utilissimo per metterci dentro piccoli oggetti come ad esempio il power bank questo qua è da 10.000 ti carica abbastanza il telefono è abbastanza velocemente 10.000 non hai problemi da nessuna parte le uniche volte in cui ho visto qualcuno o è successo a me di avere problemi con i power bank in aereo era per power bank che superano i 20.000 questo è da 10.000 nessun problema mi raccomando la presa usb c per caricare più velocemente dentro al marsupietto pieghevole c'è anche il portafoglio che ho iniziato ad utilizzare dopo che mi avete sgridato perché mi sono usciti i 50 euro dal passaporto quando stavo entrando in Albania e pensavano che volessi corrompere Poli il portafoglio è incredibile invenzione che ti aiuta a non essere arrestato ovviamente dentro c'è anche il passaporto ma non solo anche il certificato vaccinale perché alcuni posti lo vogliono scritto tanto vale averlo dietro e poi c'è il mio magico taccuino che utilizzo spesso e volentieri per mettere dei timbri specialmente in Giappone devo comprarne un altro come questo perché le pagine stanno finendo e poi ne devo prendere uno un pochino più grande perché durante i viaggi si vola questa è un'idea che ho rubato ai nostri coordinatori conviene aver dietro un bel libretto dove farsi scrivere le dediche di fine viaggio dai partecipanti e secondo me è un bel ricordo dell'avventura vissuta insieme amici il video di oggi è supportato da NordVPN che sostiene i miei viaggi e che mi aiuta nella vita di tutti i giorni sia a casa che quando sono all'estero mantenendo sempre protetta la mia connessione anche quando mi connetto a dei wifi che non conosco come ad esempio quello di questo hotel con NordVPN attivo i miei dati personali sono sempre al sicuro e ci sono tante altre funzionalità che mi aiutano tantissimo quando viaggio come la possibilità di spostare la tua posizione virtuale nel mondo metti che mi trovi in un paese dove i social non funzionano oppure un sito italiano è bloccato o voglio accedere al catalogo italiano dei miei servizi di streaming mi connetto ad internet passando da un server italiano il problema è risolto la stessa cosa la puoi fare quando sei a casa connettendoti al server di un altro paese così facendo magari l'acquisto che stavi per fare online ti viene a costare di meno ho scoperto che si chiama geodiscriminazione dei prezzi quindi NordVPN se utilizzato in maniera furba ti fa anche risparmiare costa poco ci sono tantissime funzionalità che non sto qua a elencarvi perché le trovate tutte al link che vi lascio qui sotto che vi garantisce anche l'offerta migliore disponibile e poi ci sono sempre 30 giorni di prova gratuita soddisfatti o rimborsati quindi grazie in anticipo a tutti quelli che daranno un'occhiata grazie a NordVPN continuiamo con il video ecco il prossimo è un accessorio utilissimo e super banale che la maggior parte delle persone non porta in viaggio una biro una semplicissima penna oggi eravamo sull'aereo ci hanno dato il form da compilare per l'ingresso in Cile nessuno aveva una biro io sì biro che ha anche la punta touch ma nel marsupio io ho anche questo pennino per iPhone perché la penna dell'iPad non funziona sull'iPhone nel caso io dovessi mettermi a disegnare sull'iPhone potrei farlo con questa semplicissima penina da 10 euro altre cose? ah il beauty del bagno qui ho tutta la mia roba del bagno sono pochissime cose anche perché questo astuccino è piccolissimo ultra light ma soprattutto trasparente la sua trasparenza è una cosa molto comoda perché in teoria quando passi dai controlli di sicurezza tutti i liquidi che devono essere contenuti all'interno di massimo 10 confezioni da massimo 100 ml l'una devono anche essere all'interno di una busta trasparente o comunque di un contenitore trasparente questa in teoria sarebbe la regola raramente danno problemi soprattutto allinate e malpensa hanno messo i controlli di sicurezza con i macchinari quelli nuovi che non devi togliere nulla io di solito ho spazzolino dentifricio in pastiglie naturale, biologico così non inquina mi posso lavare i denti anche in un fiume Nicolò chi si lava i denti in un fiume? ogni tanto io shampoo bagno schiuma utilizzo quelli che trovo in giro deodorante spray però piccolino le forbicine meglio non portarle se passate dagli Stati Uniti in generale c'è sempre il rischio che ve le facciano buttare si sa mai che ti venga in mente di dirottare un aereo tagliandoti l'unghia dell'alluce sparandogliela nell'occhio al comandante ho dentro una mini 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 crema solare solamente per dire a mia mamma che l'ho portata e il balsamo e mi sono dimenticato di farvi vedere questo accessorio fondamentale se non lo state utilizzando state facendo i vostri bagagli nella maniera sbagliata raga i cubi di compressione vi lascio il link qui sotto vediamo se mi ero segnato anche qualcos'altro ah altre cose che a sto giro non ho con me che potrebbero esservi utili le pods per la lavatrice magari sei in un airbnb che ha la lavatrice a disposizione ma non hai il detersivo butti dentro una pods e lavi i vestiti in alternativa si può utilizzare il sapone di marsiglia oppure fate come noi che utilizziamo gli stessi vestiti per un'infinità di giorni ah la borsetta con la roba del bagno Carlo utilizza quella con il gancio che ci sta cioè è un po' grande per me però è comoda perché la puoi appendere in bagno e avere tutte le cose a portata in mano figo ah e lui aveva dietro anche il phon da viaggio io ne ho due a casa uno con la presa italiana e uno con la presa americana che utilizzo quando viaggio in America oppure in Giappone così da non dover passare da un adattatore il phon portatile piccolino da viaggio è comodissimo specialmente per asciugare i vestiti metti il caso che hai solo un paio di scarpe o un paio di calzini che ti serve tutto bagnato specialmente quando viaggi in paesi freddi può far comodo aver dietro un piccolo phon da viaggio poi vabbè anche per asciugare i capelli io tendo a non asciugarmi i capelli e le sento su spesso per questo altro consiglio portatevi dietro i cavi di ricarica del telefono non soltanto quelli USB-C che sono delle prese un po' moderne per tante situazioni ma anche USB normale perché se trovate una presa USB per ricaricare il telefono in giro molto probabilmente è una presa USB normale le salviettine per disinfettare possono essere molto utili specialmente se considerate i motel zozzi in cui mi capita di andare a dormire ma soprattutto l'accessorio più importante di tutti con il quale concluderei questo video ragazzi le salviettine umidificate le wet wipes l'accessorio più importante di tutti perché all'estero nel 99% dei casi non hanno il bidet e con questa vi saluto e vi auguro buone feste